E grazie, io parto dai ringraziamenti, insomma anche dalla gratitudine per voi che siete venuti, che avete accettato di discutere, di darci prospettive, riflessioni, insomma suggerimenti importanti e interessanti perché niente è mai fermo del tutto, io dico meno male. E quindi nel cercare insomma un equilibrio che continuamente si modifica tutte le volte che ci si incontra, al di là se si è d'accordo o meno, però si acquisiscono anche informazioni preziose per poi rielaborare proposte e riportare per quanto ci riguarda anche all'associazione insomma come si evolvono le situazioni e qual è anche il nostro ruolo, il nostro compito. Insomma vedete dietro c'è verso l'assemblea regionale che avremo domenica come dicevo all'inizio e quindi è davvero importante e questo tema era importante e lo è sempre stato per Lega Ambiente storicamente. Insomma adesso mi è venuto così un flash anche su uno dei presidenti del Parco Nord, adesso al di là di marzo, ma che è stato Ercole Ferrario, che è stato insomma in legamento una figura importante, quindi ci fa doppiamente piacere. Non l'avevo in mente ma mi è proprio tornato alla memoria in questo momento mentre parlavo. Allora dicevo tanti spunti, è faticoso anche capire come chiudere, perché questa giornata, oppure o meglio come rimettere un po' insieme tutte le informazioni che abbiamo sentito perché si oscilla continuamente tra l'entusiasmo di avere una regione che comunque ha fatto dei passi importanti e invece quello che si vede in questo ultimo periodo che è quasi un disinteresse affinché queste aree protette abbiano una loro vita, una loro continua evoluzione ma dai fondi messi a disposizione all'attività di ricerca mi dicevano da più parti ormai l'attività di ricerca nei parchi è al lumicino perché nessuno ha più soldi, non arrivano fondi da investire nella ricerca proprio all'interno delle aree protette. Quindi insomma senza contare poi tutto quello che chiedono anche parchi e aree protette di vario genere e che non viene fatto, non viene messo a terra. Citavamo insomma all'interno nostro, ne abbiamo parlato più volte perché insomma siamo stati sollecitati ad esempio dalla riserva del Sassoma da Scarpa perché abbiamo anche la sede di Primalpe che gestiamo proprio lì a Canzo, tutti d'accordo per l'allargamento, la regione è anni che questo allargamento non lo concede rimandando continuamente al territorio qualcosa che il territorio vuole e ha già deciso che è così, che vuole quella cosa lì, vuole allargare i suoi confini. Quindi è lì, è ferma. Ma da questo punto di vista potrei citare, giustamente come l'ha citato il professor Bogliani, il parco dello Stelvio non solo per la decisione del Lago Bianco che poi io l'ho letta la lettera, ha delle prescrizioni, insomma come dire non è stata fatta così a cuor leggero e si intuisce che non c'è un cuor leggero dietro quella decisione, però capite che noi abbiamo un parco nazionale che non è più un parco nazionale perché lo Stelvio è stato suddiviso nel 2015 in tre entità amministrative, i piani vengono approvati forse, adesso quello che scade nel 2023 non è ancora stato approvato e quindi siamo lì, è appena stato approvato quello che scadeva nel 2019, quindi capite che così il direttore è alle dipendenze sostanzialmente della giunta regionale quindi senza con tutto il rispetto di tutti i direttori, due direttori che sono passati in questo periodo, ma come dire viene da pensare che è un po' difficile avere un'autonomia di gestione se poi si è così legati a questo. Il parco del Po lo citava Damiano non a caso perché è da anni che chiediamo che venga istituito, noi siamo tra le poche, forse l'unica regione che non ha un'area protetta lungo il Po c'era l'Emilia, c'era il Piemonte, c'era il Veneto in formule diverse e noi siamo in un limbo, nessuno vuole che ci sia una tutela della nascita di un parco di un'area protetta, di un'area che sarebbe normale, anzi lavorerebbe forse meglio anche in coordinamento con tutte quelle che già ci sono eppure questa cosa non c'è e poi, come dire, si tira la coperta di qualcuno perché non si vuole, anzi si buttano via i fondi che arrivano in questo caso per poter fare delle operazioni non di bacinizzazione come vuole fare qualcuno ma di rinaturalizzazione delle sponde. il parco sud, stavo dicendo parco metropolitano ma magari, possiamo qui a parlare di parco metropolitano la legge che ha cambiato la governance del parco sud Milano, parco agricolo sud Milano il tema non è che veniva scorporata la città metropolitana, è che cosa è quella cosa lì? è una legge che sostanzialmente sta bloccando qualsiasi cosa, sta bloccando la gestione del parco insomma, il presidente del ben lo sa bene, rischiamo di avere un parco che non avrà dipendenti che non avrà probabilmente nemmeno i fondi, dove non si sa quale sarà lo statuto, dove non si sa la regione come vorrà gestire il pasticcio che ha messo in campo. Io dico queste cose le avrei dette pari pari se ci fosse stato l'assessore Comazzi qui, perché avevo in mente di dirle, ed Elena, assessore Grandi è vero che qualcuno deve recuperare questa eredità del parco metropolitano, però bisogna che qualcuno si intesti una battaglia politica sul parco metropolitano e questa battaglia politica fino ad adesso non si è intestata nessuno, è rimasta lì. Adesso c'è una legge, c'è una legge quindi bisognerebbe fare un'altra legge per togliere la legge che c'è, per riaprire come dire, un qualcosa. Certo che poi ognuno farà la propria parte, ma a ragione del ben bisogna, come dire, una costituente per, ma intanto quella legge va avanti e si è perso forse un po' di tempo su questo, da questo punto di vista. Quindi benissimo che poi si parta, come dire, ognuno dalla propria parte, ma io mi ricordo quando nella prima elezione del sindaco Sala, che siamo stati a colloquio con appunto quello che doveva diventare il sindaco della città metropolitana e abbiamo parlato del parco metropolitano, tutti insieme con le associazioni e altri enti, c'era un interesse e poi questo interesse non si è capito dove si è perso. Allora, se si perde continuamente tempo, gli altri tempo poi per far passare nelle maglie che si aprono di una politica che non ha in mente, e volevo venire qui, Ingegner Verga, guarda, io ho apprezzato tantissimo il suo discorso, ma le farei vedere che cos'è oggi la politica di qualcuno. Ieri eravamo in un altro ambito, ecco esatto, meglio di no, eravamo in un altro ambito, si parlava di fanghi da depurazione, la frase di un assessore che non era sbagliata di per sé, ma che a me ha fatto un po' pensare, è stata, certo, c'è il dato scientifico, ma noi dobbiamo come politica avere, dobbiamo riconoscere e captare la percezione dei cittadini. Allora, capite che questa frase apre uno scenario gigantesco, perché che cosa vuol dire? Un conto è sentire ovviamente il sentore delle persone, della società che è intorno, una tua idea politica mediata anche da, ma se questo vuol dire che poi devono passare concetti che nulla hanno a che vedere con il bene del territorio e il bene che può fare la politica, quindi trasformare quelle idee, quelle idee che ci arrivano da un contesto internazionale, l'abbiamo sentito da un piano, dal Green Deal, da tutto quello che si porta dietro l'Europa, e andremo a votare l'anno prossimo a giugno, che paura, mi viene da dire, ecco allora se dobbiamo tenere conto di tutto questo, quella frase non va in quella direzione, ma va in una direzione totalmente diversa. Oggi la politica non riesce a mettere a terra se non negli scontri trafazioni, sembra quasi che sia un continuamento uno sconto trafazione, trafazioni contrapposte per arrivare dove non si capisce, per far passare delle idee che appunto dal punto di vista ambientale hanno praticamente niente, perché è evidente, e però poi la realtà ha dei fatti che si continua, nel caso appunto delle aree protette, del suolo, della conservazione del suolo, di un tema così importante come la tutela e la salvaguardia degli ambienti naturali e della biodiversità, invece andare in una direzione totalmente opposta. Allora, certo che serve un'alleanza, io credo che sia più che mai necessaria un'alleanza oggi, perché queste spinte vanno fermate e possiamo fermarle solo se stiamo ovviamente insieme e se ognuno riesce, come dire, a limare, diciamo così, e a trovare il giusto equilibrio per stare in un contesto che continui a frenare spinte che vanno in direzioni contrapposte. Io se penso a quante volte ci troviamo a dover difendere la rete ecologica all'interno dei ricorsi, adesso stiamo facendo un elenco, ma tantissimi, io non so, in quasi tutti i ricorsi noi ci troviamo, ricorsi contro le logistiche piuttosto che edificazioni di vario genere, a dover dire scusate ma c'è la rete ecologica, ma l'avete vista che esiste lì? Perché non la calcola nessuno, nessuno. Allora, davvero è singolare come si facciano e ci siano degli elementi, come dire, per trovare delle soluzioni alternative, perché insomma, viva Dio, siamo nel 2024, quindi non negli anni 60, eppure ancora si scelgono le soluzioni, le strade più facili per non tutelare il territorio. Quindi chiudo appunto sulle alleanze, perché credo che sia davvero importante quella spinta dal basso che è stata ricordata ed è assolutamente necessaria per riportare in equilibrio, ma per dire che davvero se da lì non passiamo, se non consideriamo così importante la tutela del territorio a tutti i livelli, ma a maggior ragione dove potrebbero svilupparsi problemi o dove potrebbero andare un pezzo di biodiversità che si sposta, come ci hanno fatto vedere, beh, davvero poi il problema un domani sarà ancora più grande di quello che stiamo vivendo in questi momenti di cambiamento climatico e di, come dire, di non tutela e cura, e anche di non cura di quello che abbiamo nei nostri territori. Io credo che non possa essere lasciato solo ai parchi di per sé, perché vorrei ricordare che anche qui qualcuno ha detto, i giovani, io sono pienamente d'accordo, ma le nomine nei parchi poi sappiamo come vengono fatte e purtroppo non c'è un giovane, uno che viene avanti, che vuol prendersi le presidenze, che viene mandato avanti dai partiti, perché le nomine poi vengono fatte così, non è che che adesso non ce le stiamo a raccontare, che tutti, certo, tutti possiamo fare tutto, dopodiché però non passa attraverso di noi questo meccanismo, e quindi non ci sono, non c'è l'idea che l'area protetta sia un volano anche politico importante per costruire non solo il territorio, ma anche magari una carriera personale, e questa cosa è davvero drammatica se la pensiamo, quindi il lavoro da fare, ribadisco, è tanto e credo che l'alleanza in primis con i parchi, ma comunque è tanto fondamentale perché altrimenti rischiamo davvero di avere conseguenze anche ben più gravi di quelle che abbiamo oggi, che abbiamo visto fino ad ora. Ringrazio tutti davvero, grazie ancora per la presenza qui, grazie Federico.